Hai mai messo un foglio di alluminio sul braccio in qualsiasi momento della tua vita? L'ho fatto e ho avuto la più grande sorpresa il giorno successivo. Può sembrare folle, ma potrebbe sorprenderti. In questo video, spiegherò perché pensato che il foglio di alluminio può essere utilizzato solo in cucina. Ti sbagli di grosso. Oltre a mantenere caldo il tuo panino e proteggere il resto del piatto di lasagne della domenica, il foglio di alluminio ha molte altre funzioni. Dimmi nei commenti quali altre funzioni del foglio di alluminio conosci e usi nella tua casa. Questo prodotto è stato creato in Svizzera alla fine del secolo scorso e presto è diventato popolare in tutto il mondo. Inizialmente veniva utilizzato per avvolgere cioccolatini e altri alimenti grazie al suo potere di isolamento termico. Quindi, quando acquisti un cioccolato e non mangi tutto nella confezione, invece di lasciarlo aperto in frigo o gettarlo via nella spazzatura, Puoi contare sull'aiuto di un foglio di alluminio. In quest'altra utility, possiamo chiudere un sacchetto di plastica in modo pratico e veloce. Per questo, avrai bisogno di un pezzo di foglio di alluminio posizionato strategicamente sul bordo della plastica che vuoi chiudere. Stirare un ferro da stiro sopra l'alluminio Dopo aver conosciuto questa tecnica, sarai in grado di conservare meglio molti alimenti nella tua casa. Oltre a ritirare quelle mollette che acquistiamo nei negozi che finiscono per rompersi o perdersi nel giro di pochi giorni. Una volta completati questi passaggi, il tuo pacco sarà completamente sigillato e non dovrai preoccuparti. Sai che la papaya hai tagliato ma non potresti mangiarla tutta in una volta. E il più delle volte finisci per metterla in frigo per rovinarla senza essere consumata. Con questa tecnica, sarai in grado di salvarlo. Avvolgere con cura l'intera superficie della papaya con un foglio di alluminio e metterla in frigo. Quindi la tua papaya durerà molto più a lungo senza rovinarsi. Un altro uso del foglio di alluminio è quello di conservare il gas gas gassato. Posizionare un pezzo di foglio di alluminio sul bordo della bottiglia e chiuderlo normalmente avvitando il tappo. Ti starai ancora chiedendo perché avvolgere un foglio di alluminio attorno al braccio, giusto? Il motivo è semplicemente che aiuta ad alleviare il dolore muscolare. Questo perché il calore generato dal corpo rimane a contatto con la pelle per un tempo più lungo. È possibile applicare questa tecnica a qualsiasi area del corpo, fornendo risultati in più articolazioni muscolari. Avvolgere la carta intorno al braccio e lasciarla durante la notte. Spero che ti sia piaciuto un altro semplice consiglio che può portarti diversi benefici. Ci vediamo nei nostri prossimi consigli.